un piccolo elicottero guarda ho un elicottero medio si! ho un grande elicottero andiamo andiamo e vai andiamo a giocare si! è il mio piccolo elicottero medio e grande uno, due, tre questo è un bellissimo elicottero proviamo a pilotarlo guardate bene ho rotto il mio piccolo elicottero è ora di aprirlo guardate questo è il mio elicottero rosso e questo è il telecomando vediamo quanto vola in alto sento l'aria che si muove ragazzi guardate guardate che figata non colpirmi è davvero fantastico guardate ragazzi sta andando molto in alto è caduto gente ora è il momento dell'elicottero più grande insieme al telecomando più grande è ovvio sto pilotando l'elicottero e sto andando così veloce wow oh no si è rotto ragazzi qual'elicottero era il migliore? io dico quello medio io dico quello piccolo no ha fatto il più grande il vincitore è? si ho vinto che bello il più grande grazie per averci seguito e alla prossima ciao si vai aereoplano ok lanciamo l'aereo ragazzi no il mio aereo oh no ciao Alex oh ciao Jason ho perso il mio aereo me ne dai uno nuovo oh non preoccuparti Jason ne ho uno nuovo proprio qui è fantastico Alex giochiamo insieme molto bene andiamo forza prendi Jason wow uno prendi qui Alex ora perché non provi a prendere questo? qua hai tirato troppo forte Alex oh oh il mio aereo si è rotto cavolo cosa ho fatto? oh mio dio mi dispiace tanto Jason va tutto bene Alex non preoccuparti mi farò perdonare e ordinerò un altro pronto? vorrei ordinare un nuovo aereo per favore bene arriva subito grazie mille Alex non c'è di che Jason sono già arrivati? andiamo forza la consegna è arrivata wow apriamo la scatola let's go un aereo verde evviva sì forza bene Jason io mi siedo e tu giochi con l'aereo ok? ok ecco il mio nuovo aereo oh no oh no oh no oh no oh no oh no si è rotto oh no non preoccuparti Jason ne comprerò un altro pronto? questa volta voglio due aerei per favore oh sì bene grazie Alex la consegna è arrivata è arrivato sì forza Jason sì apriamolo forza questa volta ne abbiamo presi due sì pronto Alex e tu sei pronto Jason andiamo forza let's go non di nuovo no non di nuovo che dovremmo fare Alex? sai questa volta ordinerò molti aerei e vai sì pronto? sa questa volta voglio cento aerei gentile mille grazie che idea fantastica ah? c'è la consegna wow cento aereoplani ragazzi forza portiamoli dentro siete pronti ad aprire cento aerei? sì io lo sono Jason tre due uno via wow non ho mai visto così tanti aerei prima d'ora tre due uno via sì sono cento aerei wow andiamo a giocare Alex let's go è stato molto divertente Jason grazie mille per averci guardato e per esserti iscritto ciao sono un poliziotto i prigionieri vanno in prigione ehi uno scivolo qualcuno sta andando sullo scivolo ti sto guardando ehi una banana deliziosa apriamola è squisita la 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 una banana andrà in prigione vieni qui ehi ehi vieni qui vieni qui forza ehi 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 forza vieni qui cavolo firmati dove vai? andrà in prigione signore e perché dovrei? per una banana? niente banane per terra andrà in prigione andiamo sono in prigione sì in prigione e ci rimarrai in prigione ci rimarrai per tanto tempo ti tengo d'occhio agente di polizia? che c'è? guarda ci sono le ciambelle ciambelle? e dove? sss sto per scappare non ho trovato nessuna ciambella aspetta un attimo una moto cosa? il prigioniero è scappato dove è andato? dov'è? oh oh dov'è? dov'è il prigioniero? dove è andato? dimmi l'hai visto? oh oh no ho bisogno di un aeroplano troverò il prigioniero andiamo forza lo troveremo insieme ok accendiamolo e adesso voliamo pronto per il decollo? sì sta volando troveremo il prigioniero mi sto avvicinando vedo il prigioniero no no l'aeroplano l'aeroplano non ci credo devo hackerarlo oh no che succede? mi sta hackerando il mio aereo no lo ha querato ciao ciao